Tri svincente, 3 come il numero perfetto, quello dei gol infilati nella porta del San Marino, 3 come il trio delle meraviglie composto da Marsura, Miracoli e Ceccarelli in gol nella città-stato d'Italia. Una vittoria che vale doppio per la Feralpi solo quella ottenuta in trasferta, un balzo notevole in classifica che avvicina le zone alte della graduatoria. Nel pomeriggio non freddo dello stadio olimpico, Brando deve fare i conti con molte defezioni in difesa, nel 4-3-3 spazio la linea verde è composta da Tantardini, Carboni, Dallorco e Broli. Sotto l'attente e precisa regia di Alex Pinardi e i gardesani iniziano la sfida subito all'attacco. Dal ventesimo in poi il cielo sopra San Marino si tinge a tinte verdi e blu. Dopo due buone occasioni per Ceccarelli e Miracoli al ventottesimo la gara si sblocca. Il vantaggio nasce d'azione d'angolo con Marsura Caparbio nel bruciare tutti sull'anticipo trafiggendo Venturi. 1-0 e morale alle stelle per la banda di Scienza e Brando, il meritato 2-0 arriva al primo minuto di gioco della ripresa. Fabri spreme uno scatto di Ceccarelli in profondità, l'ex attaccante della Lazio sbaglia la prima conclusione, ma è abile e fortunato a ritrovarci la sfera tra i piedi e mettere in fondo al sacco. Gara chiusa, il tris definitivo lo mette a segno Luca e il carnero Miracoli. Al nono il bomber conclude in rete una splendida azione manovrata con Marsura. Non accade più nulla se non la standing ovation per l'ex della sfida Andrea Bracaletti. Dopo nove mesi la Feralpi se lo torna a volare lontano dalle mura amiche e non vuole certo fermarsi. E intanto Beppe Scienza sogna uno sconto di pena.